ok amici ho sempre la taglia ecco la signorina becker vado a fare l'ultima missione dovrebbe essere misure di sicurezza a meno che se sono ancora di più ora che arrivano caccia entriamo nel parcheggio ok andiamo su al casino questa è l'ascensore ho messo velocità massima adesso ho rallentato si vede si vede proprio a occhio adesso aumento ecco qui ho aumentato appena appena il ritmo così è meno così appena appena un po di più più di questo non va non corre qua dentro quindi però va bene giusto adesso sono curioso di vedere questa missione non c'è quindi mi sa che devo andare su eh da lei proprio dalla becker vediamo qui non ci sono più missioni e di qua si eccola qui mi sa che gli devo telefonare vediamo occupato adesso scommetto che appena esco mi chiama di solito fa così appena appena esci mi dice di tornare è che la missione c'è allora usciamo meno male che ha un'andatura di velocità almeno un po più più elastica ok ok Grazie a tutti. Taylor, stop it, it's so piercing. Just wait till you see the next terror card. Oh my God, you are with one of them. Dovrebbe adesso chiamarmi. A meno che è sbloccata. No, non è sbloccata. Provò a chiamarla io, vediamo. Eccola qui, è arrivata. Ok. Ok. Io ho schiacciato invio. La missione adesso è pronta. Ehi, fa così, fa... Ti fa uscire e entrare. Oh, shit. No, 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 no. Ecco qui la missione. Speriamo che sia questa. No, 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 no. No... Non è, non è questa e quindi... vabbè io la faccio la metto difficile cosa dice al casino viene organizzato un incontro per discutere il problema dell'acquisizione ma si presentano anche degli ospiti inaspettati ok e quando viene questa questa missione io faccio il colpo e dopo questa qui c'è non me ne frega niente se quante saranno qua dentro quindi se han detto questa via la sesta se han detto che recuperi tutto il milione quindi il milione e mezzo è stato calcolato dice che lo recuperi a 50 mila luna 10 sono 500 mila cosa sono 25 no non le faccio tutte io quasi quasi la mollo qui la mollo la mollo qui niente l'ho mollata perché voglio fare il colpo non me frega niente ho paura che questa misura di sicurezza poi mi ostacola ancora di più a fare i colpi e mi obbliga a fare queste cose qui e mi fermano io ho paura della fregatura a dire la verità ho paura di questa fregatura invece come sto andando avanti adesso va benissimo cosa ho fatto il giro dell'oca dovevo girare solo a destra invece sono fatto il giro vabbè un giro più largo ok allora adesso vado alla sala giochi e avvio il colpo avvio il colpo che tutti vengono quando c'è da sparare pesante tutti però io gli scrivo io me lo sono preparato su un foglietto se mi chiedono soldi in più li dico solo per preparare ci vogliono quattro ore quindi i soldi sono questi qui e poi gli scrivo che dobbiamo andare sotto il tunnel e basta per la fuga col malloppo completo quello che c'è c'è quindi se vedo che lo fanno apposta a farmi perdere i soldi mollo il colpo e questo video lo cestino adesso io sono visibile a tutti vediamo in mappa no non mi fa vedere ma in realtà io so c'ho una morte poi dipende dipende anche dal giocatore che ha la morte però è rosso perché uccide un sacco di player e quindi ruba macchine di tutto diventa ricercato e in più a livello massimo sarebbe no adesso qui non si vede sarebbe sotto lo stato mentale dice parcheggiamo l'oppressore qua dentro vediamo allora una moto e lì sì due e l'altra qua tre moto messo ok avvia la missione non me ne frega più niente di questa misura di sicurezza lasciamo perdere qua mi stanno facendo perdere tempo ok 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 mi sa che ci siamo due gli ho tolti perché avevano la mira bassa questi due hanno la mira meno al massimo quindi ce la facciamo in tre quindi gli do un pochettino di percentuale in più dove sono cos'è successo tutto lui fa il leader abbandonato guardate o il leader abbandonato cioè la rockstar mi fa anche questo io non ho fatto niente non ho fatto niente di niente ok stop il video qui con pausa e riprendo il prossimo cioè volevo dire riprendo il prossimo avvio di missione ok eccoci qua sono rientrato qua dentro perché devo rientrare ok adesso sono rosa aspettiamo che si danno una mossa per la lavagna guarda guarda cosa mi fanno metto un attimo pausa anzi no no voglio che vedete le cose adesso è uscito insieme a cacciare le persone che non servono fermo il video qua lo fermo qui non quando sarà avviato quei giocatori riprende